due settimane fa a monaco abbiamo incontrato alon wolf di magico ci ha presentato le nuove a3 questa è la prima coppia di magico a3 arrivata in italia stiamo parlando di 11.900 euro la coppia l'abbiamo ascoltato con un sistema anzi con tre sistemi diversi questo piccolino ma non troppo è l'amplificatore integrato di constellation un'intesa già sperimentate insieme magico ma non in questi termini non con l'integrato e non con le a3 abbiamo un altro integrato siamo su un livello più alto e questo è il darcel svizzero abbiamo i due finali darcel monofonici e poi di qua diamo uno sguardo alle sorgenti che c'è parecchio materiale che è stato utilizzato rivaldi dcs lettore meccanica supera di cd abbiamo utilizzato sia musica in formato liquido sia supera di cd in formato fisico e naturalmente il pre amplificatore darcel ne abbiamo diffusamente parlato questo è il pleasure control e il volume ma la selezione musicale ormai abbiamo una sorta di compilation abbastanza consolidata che spazia dal jazz più tradizionale sia le più moderne registrazioni jazz pop e naturalmente la grande classica sinfonica guarda tu sai che normalmente io non parlo tra i primi temi di scene di immagine bene questa volta quello che volevo sottolineare è proprio questa grande ariosità un bel senso di profondità guarda la collocazione molto aperta più di quanto siamo abituati a vedere eppure immagine centrale perfettamente focalizzata questo piacerà a molti perché è vero sia con la musica pop sia con la musica orchestrale quindi anche con registrazioni acustiche particolarmente ben riuscite ascoltatele soprattutto facendo attenzione alla gamma medio e medio bassa estremamente fluida coerente intensa e generosa bella la zona del calore ma anche grandissima trasparenza non resta che poterlo ascoltare quando dove presto disponibili direi senz'altro a partire da luglio stanno arrivando altri esemplari in italia e saranno disponibili in vari punti vendita nord centro e centro sud italia pancia come sto a me non ce l'abbiamo un po di fondo tinta cerone qua ci vuole non sto facendo una foto non ti mettermi in posa grazie per essere ancora con noi ma no che ti grazie tanto vai stiamo parlando di 10.000 euro la coppia no vedi già sbagliato no mi aveva detto 10.000 12.000 euro ti ho detto alonno ma 11.900 euro costa una dotto più iva più